I Mancini, come ho già detto altre volte, li devo molto, soprattutto per l'inizio, perché lui appena poteva mi buttava dentro e quindi mi ha dato certezze che non avevo, ha dato valore a un giocatore della primavera dell'Inter che di valore ne aveva ben poco, quindi sicuramente è stato importante per me. Io quello che dico sempre è che se l'avessi avuto anche l'anno dopo da Serie A mi avrebbe cambiato la carriera, perché lui è un giocatore che soprattutto non solo i giovani, ma anche a quelli un po' più grandi ti plasma, ti plasma e ti fa dare il meglio di te stesso, anche se all'inizio ti crea qualche difficoltà doverlo seguire al 100%, poi dopo però, dopo un mese, 40 giorni che lavori con lui, ti rendi conto che le cose che ti fa fare lui sono le cose che ti portano a dare il meglio di te stesso.